Siamo a Valzurio e siamo all'ostello che sta praticamente vivendo gli ultimi giorni di lavori perché poi potrebbe cambiare la temperatura e le cose diventerebbero molto più complicate. Comunque siamo riusciti ad arrivare al tetto, l'ostello è previsto funzionante dal novembre del 2012 però un mio desiderio, un sogno, penso anche un po' di tutti quelli di Valzurio e di Nasolino e di Oltresenda è quello di riuscire a finire l'ostello entro giugno, diciamo giugno-luglio in modo da poter approfittare della situazione estiva per poter misurare anche le possibilità di questo ostello. È un ostello voluto dalla regione, noi abbiamo contribuito con un finanziamento che ci ha fatto il BIM di 120.000 euro e dovremmo poi restituirli e abbiamo fatto un bando per la gestione dell'ostello che si è concluso proprio la scorsa settimana, è stato vinto da Marchesi Anna e speriamo che sia una cosa importante questa della gestione dell'ostello perché sarà fondamentale per la riuscita di tutta questa operazione che va a incidere per circa 500.000 euro. L'ostello è stato praticamente rifatto totalmente, c'erano le vecchie scuole, poi c'era un vecchio bar e ad un certo punto la decisione è stata quella di demolire totalmente e ristrutturare in modo completo. Abbiamo anche in una fase successiva, siamo riusciti a inserire una parte a piano, diciamo strada che consentirà di avere un portico di circa 20 metri, profondo 4 metri che può servire sia per le baccheche, per mettere le bici e poi un garage che dovrebbe servire per mettere deposito di materiale e eventualmente anche un'automobile. Diciamo che la ristrutturazione completa è stato un intervento pesante come dicevo prima però sicuramente dovrebbe dare dei risultati molto positivi. Al piano superiore abbiamo quattro camere con quattro bagni, sono ben disposte, sono anche abbastanza grandi però non sarebbero direi sufficienti se vogliamo gestire un ostello in modo economicamente valido però abbiamo una convenzione con la parrocchia la quale dà a disposizione la casa parrocchiale che al piano superiore consta di, consterà perché non è ancora stato fatto però lo stanno pensando e dovrebbe partire fra poco, la ristrutturazione per cinque camere con cinque bagni e quindi queste sarebbero di supporto all'ostello quando l'ostello ne avesse bisogno e diciamo se la parrocchia dovesse gestire queste camere per proprio conto poi la parte diciamo il mangiare, il bar e così fa sempre capo all'ostello.